Vivi Cilento, società cooperativa turistica operante in tutto il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha inoltrato ufficialmente a Ferrovie dello Stato la richiesta di implementare la sosta nella stazione di Agropoli Castellabate del Frecciargento Bolzano Sibari-Sibari-Bolzano. Ad oggi, infatti, l'alta velocità effettua solo il transito ad Agropoli Castellabate, limitando in questo modo le possibilità di spostamento ai numerosi turisti e residenti della città e delle zone limitrofe. La suddetta stazione, già punto di sosta dell'alta velocità da giugno a ottobre, ovvero nel periodo di stagione turistica, è necessario, fa presente Vivi Cilento e il presidente Emanuele Ruocco, rappresentare agli organi di competenza quella che per noi è una vera e propria necessità. Non è contemplabile limitare l'alta velocità solo al periodo estivo, quando anche per il resto dell'anno. È presente un consistente flusso di persone che desidererebbero partire da e verso il Cilento proprio ad Agropoli, che rappresenta il punto nevralgico di arrivo nell'area nord del Cilento. Vivi Cilento ha coinvolto in questa richiesta anche i sindaci di Agropoli e Castellabate, importante risorsa con la quale fare fronte comune al fine di fare accettare la proposta.